Caro Maggiore, se proprio volete così, trasmetterò la vostra lettera di dimissioni al Ministero. Perché lo sapevate che proprio in questi giorni eravate stato proposto per l'avanzamento a colonnello. Sì, lo sapevo. Non mi nascondo che perdere un ufficiale come voi mi dispiace. Venite avanti, non fatemi alzare la voce. E poi per farmi questa comunicazione potevate almeno aspettare che fossimo di ritorno a Pietroburgo e non in questa picocca. E poi non vi capisco, altri cento ufficiali si sono sposati, è questo il vostro caso, no? Senza per questo troncare la loro carriera. Signor Generale. Beh, insomma, mi auguro che questo che fate sia per la vostra felicità. Fermate. Signor Generale, una preghiera. Io non ho comunicato a nessuno la mia decisione, neanche alla persona interessata e... Sì, ho capito, ho capito tutto. Vi riservate una sorpresa, come chi dicesse un regalo di nozze. Certo è una bella prova a troncare la propria carriera. State tranquilli, non dirò una parola a nessuno. Fermate. Avanti, firmate, l'avete voluto voi. Firmate.